Come aggiornare così completamente il driver grafico della tua 3060 Ti, ovviamente prima di fare tutto ciò, disinstalliamo prima i driver grafici delle nostre vecchie schede video che abbiamo usato sul nostro computer, quindi vai direttamente su installazione applicazioni. Il sito qua sopra è Nvidia, driver grafico, 3 puntini, disinstalla così questo driver grafico. Una volta fatto andiamo così a reinstallare un nuovo driver grafico per la nostra 3060 Ti, ovviamente. Eccola qua, GeForce RTX 3060 Ti, quindi in questo caso vado direttamente su questa pagina qua dei driver di Nvidia, vado così a inserire la 3060, quindi prima bisogna mettere la serie 30 e poi andiamo a prendere la 3060 Ti. Windows 11 italiano trova. Ora, driver GeForce Game Radio e driver Nvidia Studio, questo è per lavorare e questo invece per giocare. In questo caso vado su vedi qua, faccio download, scarico così il software e lo installo. Una volta fatto, scarichiamo e installiamo il software ed eccolo qua, eseguiamolo come amministratore. Estraiamo così il software per cominciare a installare. Ovviamente ti spiegherò cosa devi fare perché a installarlo io non posso installarlo perché lo tengo già installato sul mio computer. Poi una volta installato tu devi riavviare il tuo computer. Si avvia così il driver grafico di Nvidia. Verifica compatibilità di sistema. Ora, verifica così il sistema. Accetti e continui. Su opzioni, su opzioni, devi installare tutti i driver e sotto c'è scritto pulizia completa. Tu seleziona quella spunta pulizia completa. Installi, aspetti un bel po'. Una volta fatto, puoi chiudere così questo pannello e riavviare il tuo computer. E hai installato perfettamente il tuo driver grafico per la 3060 Ti. Grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.